Io dico no, ma porca puttana, 5 euro buttati al cesso, oddio se sta incassando la signora No, a posto, mezzo un patascherina vaffanculo, fatto un cazzare la signora, si è messa paura Ho capito, ma 5 euro buttati al cesso, cazzo, questo Benevento, che se giocava così dalla prima giornata stava primo Champions League, campioni di, non è un dildo, è un volante, ciao, porca puttana, tu non ride Porca mignota, fa gallo, manco posso apri i veti perché ho la macchina, aspetta, apri i veti perché, no, anzi è meglio di no perché sennò la gente E niente, che è successo, è successo che il Benevento agli ultimi minuti, miracoli della manna, miracoli dei pugioni Mi serviva un X2, mi bastava anche il pareggio, a me mi rodo, a me mi, non si dico, mi rodo il culo quando cazzo perdo le schedine alla prima partita del sabato Cazzo, ma ma devo rigiocare un altro, ma ma la gioco sta settimana, mi sono tutti i coglioni Io spero che voi non abbiate seguito i miei consigli, eh, che dovemmo dire? Che è stata una partita, per carità, namichevole, valeva meglio, no, manco come namichevole, cioè proprio Non serviva un cazzo né al Benevento e né al Genoa, ma io sinceramente me aspettavo Pensavo e speravo che il Genoa, vista la differenza dei punti in classifica, almeno un punto se lo sarebbe portato a casa Me dovevano, tanto sapevano, hanno visto su Instagram la squadra Genoa, sulla schedina, visto che io mi sono giocato X2 Famolo perde, famolo perde, me sto proprio sul cazzo Eh, detto, avete visto la parte, manco sapete di che cazzo stiamo a parlare Benevento Genoa, Benevento Genoa, Benevento che, come ripeto, si sveglia all'ultimo Perché tanto ormai c'ha più un cazzo da perdere, ha perso quello che doveva a perdere Perché van serie B, e quindi sforna queste prestazioni Cost to cost de Brignola e Diabete, eh, sì Diabete Diabate la butta, mi sono sbagliato, stavo pensando un'altra cosa Diabate la butta, Diabate la butta dentro Giocatore di prospettiva sicuramente interessante Perché, voglio dire, sta a fare un sacco di cose Non rimarrà bene, sicuramente si comprerà qualche altro club O di serie A, o di che ne so, serie A, estere, quello che cazzo Vabbè, ci vediamo dopo con uno Chi è? Che vuoi? No, non è per noi Questo mi sta a guardare strano La gente mi guarda strano, te credo Ci vediamo più tardi perché seguirò anche la partita dell'Inter Io mi stavo infrattando Eh, ma sto scherzando, stavo appena uscito, ciao Ciao